salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale io sono grace proseguiamo la nostra avventura realistica con il gioco di sebastian loeb rally evo allora amici vediamo un po noi eravamo in modalità carriera e se non erro stavamo effettuando i loeb events sono riuscito a sbloccare finalmente lo stage singolo di finlandia saremo su una fiesta rs rally car allora ci manca questo e questo qui questo si sbloccherà successivamente una volta affrontato e superato questo stage singolo qua proseguiamo siamo alle ore 22 di notte quindi è una notturna siamo in modalità difficile e appunto siamo come una fiesta vediamo un po come si comporterà questa macchina la lunghezza è di 10.397 metri quindi è una prova speciale abbastanza lunga per fortuna siamo su terra asciutta ok allora impostazione auto la lasciamo configurata con le impostazioni già predefinite in postage abbiamo già visto le informazioni della prova speciale quindi conseguenza possiamo iniziare la gara ok amici vediamo un po come si comporta questa auto vettura e vediamo se siamo fortunati a portare a casa un podio ok destra 6 70 destra 6 più 100 sinistra 6 molto lunga 150 dosso salta in destra 6 per destra 6 160 su dosso lungo sinistra 6 più per destra 6 più dosso 90 destro 6 destro 6 più in destra 6 più molto lunga 90 sinistra 6 su dosso molto lunga sinistra 3 più in destra 6 più 350 Sinistra 6 più 60 Destra 6 più per sinistra 6 più 60 Destra 5 più 2 sudosso In sinistra 3 lunga In destra 6 250 Destra 5 lunga Per sinistra 6 più 60 Attenzione sinistra 2 In destra 4 lunga Un po' lunga Per sinistra 6 In sinistra 5 più 140 Il prossimo intermedio Il tempo Il primo era buono Almeno 5 secondi di vantaggio Sinistra per dosso Per destra 6 230 Ok utilizziamo un rewind qua ragazzi Attenzione sinistra 3 sudosso Salta 50 Sinistra 6 molto lunga Chiude 4 Dai un cespuglio del cazzo Un cespuglio del cazzo Destra 4 lunga Per sinistra 6 più Destra 6 più in Sinistra 6 molto lunga Sudosso Sinistra 5 più in Destra 6 80 Destra 6 più in Sinistra 6 molto lunga Chiude 40 Destra 4 per dosso Per sinistra 5 meno lunga In destra 6 chiude Destra 80 per sinistra 5 più 40 Destra 6 meno lunga Attenzione Destra 6 più sudosso In sinistra 6 60 Destra 6 più lunga Per sinistra 6 70 Sinistra 6 più in Destra 6 molto lunga Sinistra 6 più 150 Attenzione sinistra 5 su dosso 100 Ok abbiamo mantenuto il vantaggio ragazzi Nonostante quella sfiga di quel cespuglio là Sinistra 6 più 60 Attenzione destra 3 apre Sinistra 6 Destra 3 più taglia 180 Ok Svartel Dai 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 Destra 6 più in Sinistra 6 più 40 Destra 4 più sudosso In sinistra 6 Attenzione stai a destra Sudosso salta 70 Sinistra 6 più Molto lunga 60 Destra 6 più sudosso 120 Sinistra 5 più Molto lunga Attenzione sinistra 6 Lunga sudosso salta Destra 5 più Molto lunga sudosso 60 Oh questa prova speciale Ce l'abbiamo con i cespugli ragazzi Eh Ne becchiamo tutti noi Attenzione Attenzione dosso salta In destra 6 più sudosso salta Attenzione destra 5 più sudosso salta In sinistra 6 più Per destra 6 più sudosso salta Indosso salta In sinistra 6 più Per sinistra 6 più Ancora 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 quei cosi lì eh Per destra 6 più sudosso salta Indosso salta In sinistra 6 più Per destra 6 più lunga Destra 5 sudosso 70 Attenzione sinistra 5 sudosso Per dosso salta In destra 6 Destra 6 più sudosso In sinistra 6 più Per destra 5 più sudosso Sinistra 6 più In destra 6 più Lunga sudosso 40 Destra 6 60 Sinistra 3 lunga Apre 60 Destra 6 più 200 Il pulo ragazzi Lì è pulo Sinistra 6 più Per destra 6 più 60 Destra 6 più 120 Sinistra 6 più In destra 6 più Traguardo I cartelli erano in aria Avete visto? Non erano neanche appoggiati Erano sollevati Stavano lievitando ragazzi Vediamo un po' Allora Abbiamo portato a casa Un oro Perfetto Con un vantaggio Di 1 secondo E 9 Direi che non è male Modalità difficile Comunque C'è la sancavata Ok Avanziamo nella graduatoria mondiale Ottimo direi ragazzi Ci ha regalato anche La Ford Fiesta RS Rally Card Va bene Va bene Va bene Vuoi usare questa auto No E prossimamente Ci manca questo qua Ok amici Io direi che il nostro episodio Termina qui Spero che la nostra avventura Vi stia piacendo In tal caso Se siete iscritti al canale Iscrivetevi Se vi è piaciuto il filmato Lasciate un bel like Vi ringrazio per avermi seguito Ci vediamo con il prossimo gameplay Un saluto a tutti da GraceGamer78 Un saluto a tutti da